Buonasera e benvenuti a un'impresa in comune che come ormai sapete è il titolo degli approfondimenti dedicati al faccia a faccia tra la CNA e i candidati a sindaco della città di Pesaro. Questa sera torneremo a parlare di temi cari agli imprenditori come la burocrazia, la tassazione locale e tanto altro. Lo faremo insieme al candidato a sindaco della città di Pesaro per il centrodestra Nicola Baiocchi. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. E Moreno Bordoni, segretario provinciale della CNA. Buonasera Moreno. Buonasera a tutti. Baiocchi, lei si presenta per la prima volta come candidato a sindaco della città di Pesaro ed oggi qui per rispondere alle domande del mondo delle imprese. Innanzitutto che cosa avete in mente per la Pesaro del futuro? Grazie per la domanda. Abbiamo in mente un'idea di una città diversa, di una città meno ingessata, meno legata alle logiche politiche che la vedono governata da 70 anni dallo stesso partito. Pensiamo che debbano esistere dei requisiti fondamentali per l'amministrazione di questa città e per il progetto che ispirano a questo progetto politico, che sono la condivisione, la partecipazione e la competenza. Perché pensiamo che questa città ormai è assuefatta ad un sistema che la governa nello stesso modo da oltre 70 anni. Pensiamo che ci possa essere veramente la possibilità di farcela. Siamo molto fiduciosi e non possiamo che essere convinti che una città migliore può esistere. Bordoni, a lei la prossima domanda. Uno dei vostri punti programmatici a livello nazionale è sempre stato quello dell'abbassamento delle tasse. Come pensate di tradurre questa battaglia a livello locale, visto che da quello che si vince da uno studio nazionale della CNA questo non è uno dei territori più virtuosi? Allora, è un problema molto molto sentito. Già nelle prime uscite, da quando sono stato disegnato come candidato al centro-destra, ho proposto questa situazione, ho proposto una riduzione della tassazione, perché pensiamo che esistano gli spazi. Pensiamo che proprio analizzando i vostri dati, che richiamo in diverse occasioni, la tassazione è troppo alta. esistono delle condizioni per poter modificare questo modus operandi, perché come ho toccato la tematica delle tasse della Tari sono stato massacrato, come se il mantenere lo status quo sia ormai una situazione, non tocchiamo le tasse, non tocchiamo le entrate, non tocchiamo la tassazione, invece secondo noi è completamente sbagliato. Bisogna rivedere le modalità di calcolo delle aliquote e non si può non pensare di rivedere una tassazione a partire dalla Tari, la Tasi, l'Imu, per i capa non e sfitti. Ci sono delle situazioni molto molto importanti che sono tutti i danni che si creano nell'impresa e la tassazione di Pesaro è sopra la media nazionale e non possiamo che, dobbiamo per forza intervenire in maniera puntuale su questa cosa. Uno dei fardelli più importanti e più pesanti per l'impresa è il carico di addempimenti burocratici spesso complicati proprio dalle amministrazioni comunali. Come pensate, se lo pensate, di snellire la macchina burocratica comunale? Non possiamo non pensarlo. La burocrazia è sempre stata un fardello terrificante per le aziende, l'imprenditore, le piccole aziende che vogliono investire, che vogliono creare lavoro, hanno questo fardello massacrante della burocrazia. Quindi rivedere completamente la gestione del SUAP, creare uno sportello che invece di creare un imbuto tra le varie situazioni, le varie domande, serva proprio invece a snellire questa procedura e incentivi le persone a investire e costruire, perché senza le imprese, senza il lavoro non andiamo su una parte. Chiaramente altre tipologie di interventi si possono fare sulla cultura, turismo, ma il gap che si è creato a livello di lavoro lo dobbiamo colmare con il lavoro e l'impresa. Maiochi, ci sono alcune domande che le rivolgono direttamente coloro che lavorano nel mondo delle imprese, quindi nel settore del commercio. Guardiamo il primo contributo. Sempre più furti nei negozi e nei laboratori. Cosa intende fare sul tema della sicurezza? Ecco, quindi un altro tema sentito è quello della sicurezza. Che cosa risponde? Allora, la sicurezza è assolutamente un punto fondamentale del nostro programma elettorale. Siamo convinti che questo problema è stato analizzato in maniera superficiale, nel senso che si è sempre cercato di dare un'immagine che la città in realtà è una città tranquilla, dove non esiste nessun tipo di problema, dove i dati della prefettura dicono che i reati, che le denunce sono in calo, che è molto diverso dal numero di reati consumati. Noi abbiamo una concezione diversa per cui è necessario assolutamente fare un'analisi della percezione della sicurezza. Il cittadino pesarese non si sente sicuro, ha bisogno di essere tutelato e la prima operazione da compiere è assolutamente quella di richiedere fortemente un invio di uomini. La questura di Pesaro è assolutamente sottopersonale, sottomezzi. Pensate che le pattuglie notturne che presidiano la città sono solamente una della polizia e una dei carabinieri. Quindi immaginatevi voi riuscire a controllare un'intera città di 100.000 abitanti è veramente, veramente difficile. Siano stati diversi i gridi d'allarme da parte dei sindacati di polizia, purtroppo sempre inascoltati. Vogliamo assolutamente cercare di ripristinare il vigile di quartiere perché è una figura fondamentale di presidio del territorio. Perché il presidio del territorio è alla base della sicurezza. La sicurezza la fai non soltanto con le telecamere che possono darti un aiuto nella fase successiva alla commissione di un reato, ma con il presidio del territorio. Quindi uomini e mezzi, potenziamento della polizia municipale, estensione dei turni notturni per i vigili, per la polizia locale e presidio del territorio. Il vigile di quartiere deve essere una persona capace di colloquiare con le persone, stare vicino alle persone, capire quali sono le problematiche e intervenire in maniera puntuale e urgente sulle necessità delle persone. Lavorerete comunque anche sul sistema di videosorveglianza? Assolutamente, certamente. Potenzieremo anche questo sistema. Però la videosorveglianza Tocur senza attorno a un progetto comune di sicurezza sulle persone non ha senso. Do il benvenuto ad Antonio Bianchini, che è responsabile sindacale della CNA di Pesaro. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. A lei la prossima domanda. Sì, volevo chiedere al candidato se sul tema del futuro della città, del suo sviluppo urbanistico. Pensate di rivedere l'attuale strumento regolatore, l'attuale piano regolatore generale della città. Sì, ne ho già parlato di questo tema, è un tema a noi molto caro. Pensiamo a un piano regolatore più elastico perché in questo periodo storico solamente coloro che si sono adeguati ai mutamenti della società, dell'economia, del lavoro, sono riusciti a sopravvivere. Quindi non vedo perché un comune non debba comprendere bene quali sono le esigenze di una società di un cambio storico pazzesco. Si pensi che intere zone della città, zone industriali, anche sono desertificate, c'è un problema di rigenerazione urbana. Si possono fare tantissime cose anche perché ciò potrebbe consentire all'economia, al distretto dell'edilizia di ripartire, che è un indotto pazzesco ed è uno dei settori che ha sentito, risentito di più, della crisi economica. Quindi benvenga, rivedere con dei professionisti, ristudiare delle soluzioni differenti capaci di adeguarsi alle problematiche della realtà locale. Anche le infrastrutture, no? Un altro argomento importante. Un altro tema sicuramente centrale per la città e per il territorio è il tema delle infrastrutture. Volevo chiedere al candidato cosa ritenete prioritario sul fronte della città di Pesaro dal punto di vista infrastrutturale? Allora, esistono delle priorità che per ora purtroppo sono ancora dei sogni, l'affano grossetto per il collegamento, esistono delle situazioni gravi ma forse più facili da risolvere come il valico di Boccatabar, Trabaria. Ci sono altre problematiche più strettamente legate alla città che sono necessariamente quelle legate al casello dell'autostrada, alle opere complementari, compensative, che devono necessariamente partire. Purtroppo ancora sono ferme, ci sono anche dei contenziosi regali, ancora non si capisce bene qual è bene la partenza. Sono stati picchettati alcune zone ma ancora non è anche la traccia di quello che si potrà essere. Ma sicuramente il raddoppio della Monterabatesa, Quattro Corsie, degli interquartieri, della circonvallazione di Muraglia e le problematiche enormi legate al quartiere di Santa Melanda. Santa Melanda è una questione un po' a parte perché il casellino di Santa Melanda noi siamo stati sempre contrari a quella collocazione e a quel tipo di casellino. Chiaramente faremo tutte le verifiche del caso e vedremo se c'è la possibilità di ripensarlo come è stato fatto in un progetto originario che era nella Monterabatesa, un vecchio progetto dell'assessore Pieri, perché avrebbe una funzione di collegare maggiormente tutta la parte della zona del Foglio. Quindi potrebbe essere anche quella una soluzione molto importante, però le priorità assolutamente queste. Quindi circonvallazione di Muraglia, interquartieri, raddoppio dei quartieri, degli interquartieri e della Monterabatesa. Ringrazio Bianchino e adesso ascoltiamo il prossimo contributo. Sì, grazie. Sempre più negozi e laboratori artigianali chiudono in centro. Voi cosa intendete fare? Dunque la sua ricetta per il centro storico. Allora il centro storico è sempre stato al centro delle ultime almeno 5, 6, 10 campagne elettorali che ricordo. È un problema molto sentito. Il centro ormai è diventato un problema difficile da affrontare perché chiaramente nessuno ha la bacchetta magica e può pensare di risolvere i problemi perché è facile di criticare ma bisogna anche cercare di capire quali sono veramente gli strumenti utili e giusti per poter correggere e cambiare il tiro. Sicuramente è una vita che sento parlare di riuscire a calmirare gli affitti per i locali. Ormai i locali in centro sono rimasti in mano soltanto le grandi catene che sono le uniche che sono in grado veramente di riuscire a pagare gli affitti. Le altre se c'è una moria di negozi è un ricambio pazzesco. In pochi mesi si vedono cambiare. Ci sono negozi sfitti in Piazza del Popolo, in Via Branca, cose che non sono mai successe nella storia di questa città. Quindi cercare veramente di intervenire pesantemente su questo tema degli affitti è sicuramente una cosa molto importante ma anche creare delle situazioni che possano aiutare il mercato del centro storico a ripartire. Noi abbiamo proposto una cosa interessante che è una piccola cosa. L'anno scorso è stata cambiata la normativa che prevedeva l'esenzione del pagamento del ticket di Pesaro Parcheggi dalle ore 13 alle ore 15 e il Comune l'aveva tolto secondo noi in maniera molto molto negativa perché ciò creava indubbiamente un danno ai commercianti perché tantissime persone durante la pausa pranzo si recavano in centro, andavano a fare un giro, mangiavano, andavano eventualmente a comprare qualcosa e noi abbiamo assolutamente stabilito che questa sosta deve assolutamente tornare ad essere gratuita. E per il resto bisogna cercare, sì, formule di incentivo. Abbiamo visto che la formula del riparti Pesaro purtroppo è stata fallimentare ma non fallimentare perché è giusto una procedura di esenzione per l'apertura delle nuove attività. Benvenga eccetera. Abbiamo visto che i numeri sono stati assolutamente fallimentari. Non sappiamo perché si è comunicata male, si è utilizzata male, comunque non ha avuto gli esiti sperati. Quindi bisogna necessariamente trovare delle formule che permettono di incentivare ma è necessario molte volte stare vicino alle imprese non solamente quando aprono. Quando ci si trova a tagliare il nastro siamo tutti buoni ma è molto più difficile stare vicino alle aziende quando c'è una crisi, quando c'è una crisi aziendale. Per questo siamo molto favorevoli alla creazione di tavoli per la crisi aziendale insieme alle associazioni di categoria, agli industriali, ai sindacati del lavoro. Perché quando chiude un'azienda è un dramma sociale per la città. Perché se chiude un'azienda si perdono posti di lavoro. La persona che perde il lavoro perde la dignità. Quindi massima attenzione non solo all'apertura di nuove attività ma anche a fare tutto ciò che è possibile, le nostre possibilità per evitare che le aziende chiudano. Quindi anche qua attestazione, insomma, affitti. Certamente, attestazione, affitti e cercare veramente di incentivare la vita nel centro storico. Io ad esempio ritengo che tutti questi eventi spot, molte volte anche con attività e con situazioni in conflitto di interesse. Se tu fai in Piazza del Popolo ogni settimana una sagra di qualcosa con dei prodotti che sono concorrenziali anche alle attività che lavorano lì, secondo me è molto scorretto nei confronti di chi è che lavora lì, paga una cifra di tasse elevatissime e non può essere messo in concorrenza anche con situazioni spot, così che portano veramente poco alla città, secondo me. E' tornato nei nostri studi Claudio Salvi, responsabile dell'ufficio stampa della CNA. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora approfitto della presenza del candidato Nicola Baiocchi per rivolgergli una domanda che spesso riguarda anche, diciamo, oltre il comune di Pesaro, oltre la città di Pesaro. Che cosa intendete fare per sviluppare il lavoro e l'occupazione nella nostra città? Questo è il tema cardine, il tema principale del nostro programma elettorale. Cosa fare? Cosa fare? Un comune, spesso sento dire che un comune non può fare niente per il lavoro, non può fare niente per le aziende, dipende tutto dalla disciplina nazionale, questo noi noi siamo assolutamente d'accordo. Un comune può assolutamente creare le condizioni finché un'azienda possa fare bene, possa lavorare, possa assumere persone e tutto ciò si può fare, come vi ho detto prima, eliminando la burocrazia e creando delle situazioni finché le aziende abbiano terreno fertile per poter investire in città. E questo è alla base di tutto, alla base di tutto. Lo sviluppo economico può venire tranquillamente anche tramite altri asset strategici, a parte il discorso delle aziende, che possono essere legati al discorso del turismo, al discorso della cultura, che possono portare persone in centro, possono portare maggior occupazione. Quindi ci sono tantissimi strumenti che possiamo utilizzare, ad esempio pensiamo che il mercato del lavoro possa essere assolutamente dato un aiuto alle aziende come la chiusura dell'università, ad esempio, noi stati sempre molto critici sulla chiusura dell'università e pensiamo che ad esempio, allora riportare corsi universitari, diciamo la verità, è profondamente difficile. Però creare dei master universitari di secondo livello specifici e allineati alle esigenze delle aziende e del territorio, per noi potrebbe essere ad esempio un bel volano per cercare di creare professionalità specifiche da poter affiancare alle aziende. Scuola professionale, ad esempio, è stata la polemica di qualche mese fa dove Benelli, l'istituto professionale Benelli, ha perso un corso specifico che riteneva molto importante per poter creare delle persone qualificate per dare alle aziende. Ecco, cercare di vedere bene sul mercato del lavoro territoriale quali sono le mansioni specifiche che vengono ricercate e quindi creare dei corsi ad hoc per poter avvicinare il mondo del lavoro al mondo della scuola. Questo ad esempio potrebbe essere anche un'idea. Senta, riguarda strettamente l'economia locale, ma cultura e turismo rappresentano una voce sempre più importante nell'economia della produzione. Sì, è un asset strategico molto importante. Questo comune ha battuto tantissimo, ha investito tantissimo nell'ambito della cultura e del turismo. Secondo noi, non raccogliendo i risultati sperati, perché i dati dicono questo. Noi abbiamo un'idea molto chiara della cultura e del turismo. Il turismo deve essere, prima di tutto, capire che tipo di turismo vogliamo, dove vogliamo andare, che tipo di turismo. Vogliamo un turismo di massa, di ricione, di rimini? No, non abbiamo le strutture, non abbiamo il tipo di turismo finalizzato a quel tipo di attività che sono connesse a discoteche, locali. Non abbiamo quel tipo di turismo. Dobbiamo cercare, prima di tutto, capire bene cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare e soprattutto investire pesantemente in cultura e turismo. Tu non puoi prescindere da un investimento pesante in marketing, che è quello che riguarda la collocazione territoriale, le nostre strutture, del San Bartolo. Nell'ambito della cultura abbiamo delle cose importantissime che possiamo sviluppare, che veramente non stiamo utilizzando. Noi vorremmo creare assolutamente un contenitore unico, museale, che sia in grado di racchiudere tutte le opere. Vogliamo necessariamente sfruttare Rocca Costanza. Un obiettivo fondamentale sarà quello di rendere fruibili i mosaici del Duomo. Ci sono problematiche enormi? Sì, lo sappiamo. La Curia, ci sono problematiche enormi, però bisogna darsi anche degli obiettivi ambiziosi, perché se vogliamo sempre cercare solo di dire le cose che sono facili da realizzare, non riusciremo mai ad avere obiettivi ambiziosi. Ecco, i mosaici del Duomo, Rocca Costanza, sono cose importantissime. Palazzo Ducale, cercare di renderlo più fruibile possibile, perché è impossibile che un palazzo di una bellezza tale sia ancora relegato solamente alla prefettura. Quindi ci sono tantissime cose che si possono fare. Una cosa che veramente mi fa arrabbiare è vedere che i 600 mila euro che vengono ricavati dalla tassa di soggiorno, la maggior parte viene riutilizzata per pagare le utenze e le pulizie di teatri, perché questo molti non lo sanno, di teatri e le utenze, di biblioteche, eccetera. Quei soldi lì devono necessariamente essere investiti, se non tutti, una buonissima parte nell'ambito del turismo. E mi stupisce sinceramente che in alcuni casi le categorie di, ad esempio, degli abbregatori non si impuntino su questa cosa e pretendano dal Comune che questi soldi vengano rinvestiti lì. Prima parlavo del centro storico, per cui anche continuare ad organizzare eventi proprio in in città per aiutare i negozi. Sì, benvengano gli eventi, ripeto, dipende sempre dalla tipologia di evento che si vuole organizzare. Tutto ciò che può portare lavoro, gente all'interno del centro, benvenga, ma ci siano delle regole chiare e non mi piace che per un proprio tornaconto personale di immagini in alcuni casi vengono danneggiate delle attività. E questo non va bene. Tutto ciò che porta persone che fa girare l'economia locale è tutto assolutamente ben voluto, ma ci siano delle regole e delle norme chiare. E come riporta uno dei punti della piattaforma della CNA, i candidati a sindaco sono importanti anche le collaborazioni tra territori e amministrazioni locali. Collaborazioni che possono tradursi in risorse comunitarie per progetti condivisi. Lei che cosa ne pensa? Ad esempio un'intesa con Fano, Rubino o Gabice, anche se di espressione politica diversa. Allora, mi sono già incontrato diverse volte con Lucia Tarsi, con il candidato di Fano per il centro-destra, con cui è nata un'ottima collaborazione e ritengo che sia assolutamente necessario questo tipo di formamenti. Se non possiamo più pensare alle questioni campanilistiche di Pesaro, Fano, Gabice, Urbino, bisogna necessariamente collaborare sia per quanto riguarda il turismo per quanto riguarda i distretti industriali, i fondi comunitari. Esistono delle possibilità con i fondi comunitari pazzesche che i comuni possono intercettare. Se allora finiamola di fare queste valutazioni campanilistiche che ognuno deve guardare sempre proprio il proprio orticello, ma apriamo la mente e cerchiamo di capire che se si collabora per quanto riguarda il turismo, gli distretti industriali, le infrastrutture che parlavamo prima. Quindi è assolutamente necessario questo tipo di approccio. Con Lucia Tarsi ho già parlato diverse volte e ho visto molta sintonia su questo tema. Con le altre persone non avrò nessun problema a parlarci, ma penso che sia assolutamente una questione condivisa da tutti. Benissimo. Io ringrazio il candidato sindaco alla guida della coalizione in centro-destra, Nicola Baiocchi, grazie per essere stato con noi e Claudio Sarvi, responsabile dell'ufficio stampa della CNA. Ci ritroviamo la prossima settimana per un'altra puntata di Pesor, un'impresa in comune. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti voi.